buon pomeriggio a tutti ragazzi buon pomeriggio e buona domenica allora riusciamo a fare riesco a fare video uno è stato fatto già ieri da maurizio ma oggi andiamo a godere di quello che è successo ieri sera ieri sera non veniamo in video finita l'estrazione solo quando vinciamo lo facciamo anche il giorno dopo perché capita che a volte non possiamo venire in diretta abbiamo fatto veramente qualcosa di straordinario purtroppo non come la nazionale italiana il servizio telefonico ha colpito alla grande con l'ambo vertibile 770 preso secco su ruota ambo secco su tutte ma la cosa più eclatante questo roma capitale che continua a colpire io avevo detto avremmo vinto col numero 14 mi sono sbagliato abbiamo fatto l'ambetto spaccato 15 52 ma ancora più bello vedere i vostri scontrini del 16 67 su bari ruota unica molti ci hanno sempre accusato che non riusciamo a giocare su ruota unica io ho dimostrato che la ruota unica si può giocare e come bari se 16 67 ambo secco ambo in terzina ma soprattutto ci avete messo l'oro come vi ho consigliato e il 67 è uscita in quinta posizione perciò sono arrivati degli scontrini e delle belle vincite sono contento allora poi aggiorniamo tutto perché sapete che nei primi colpi noi nostro cavallo di battaglia sono i primi colpi abbiamo tre quattro previsioni che calcoliamo le prime estrazioni tra l'ultima e le prime e che praticamente non sbagliano mai una di questa sarà postata nel gruppo matos perciò entrate in questo gruppo perché posteremo la previsione che nel gruppo matos da quando è nato abbiamo sempre preso lambo secco e questa volta ci sarà un mio regalo perché a questa previsione poi in via eccezionale io vi farò giocare una cinquina per provare dal terno in su ma la previsione sarà lambo secco la previsione primaria nel gruppo 40 sfumature di lotto troverete adesso ho messo due previsioni ma attenzione attenzione perché man mano che ci sarà l'estrazione io farò dei video all'interno del nostro gruppo whatsapp un modo anche per entrare nel nostro gruppo abbonati il servizio telefonico da domani il 9 90 si continua 9 90 su quelle due ruote che vi abbiamo dato si continua perciò non chiedete agli operatori si continua non si continua mandate il messaggio a me o maurizio perché ve lo dico in anteprima si continua ma domani troverete la previsione del nuovo ambo ma soprattutto la nuova previsione di roma capitale e questa volta andremo a trovare gli amici i grandi amici che hanno un cuore enorme di palermo perciò giocheremo sul roma e palermo ok e la troverete nel servizio telefonico allora non chiamate il servizio telefonico perché è una truffa perché di qua e perché di là anche sto mese abbiamo sfondato abbiamo messo un nuovo record alle chiamate perché abbiamo ricevuto all'incirca quasi 200 chiamate in più del mese scorso quanto vi è costato mamma mia prendere una previsione e pagarla 3 euro anziché 10 12 questo servizio telefonico è una poi non chiamato perché è una truffa non chiamate non vi preoccupate e chi chiama porta a casa i risultati andiamo a vedere assieme nostri cedolini non i miei i vostri 7 70 ambo vertibile milano venezia poi avevo consigliato 7 12 21 e 70 peccato perché anziché il 21 è uscito il 41 se no era un bellissimo ambo secco terno ambo secco su milano ambo secco su tutte e su torino 8 e 70 ieri questo 7 70 è uscito praticamente dappertutto chissà come mai noi diamo i numeri e chissà come mai la lottomatica ce le fa uscire tutti 7 70 eccola qua bari 16 26 67 io ho messo questi numeri poi qualcuno aggiunge 7 70 eccolo qui 7 12 21 70 con una previsione guardate qua la meraviglia 16 26 67 regala cioè vi ho regalato 417 euro ruota unica bari con loro cosa avete speso uscita in quinta posizione come vi ho consigliato vi avevo detto che questo 67 ritornava e vabbè sono contento perché mi avete creduto bari hanno fatto un'insalata di mare qua è un'insalata di mare però insomma 16 67 spaccato 7 70 servizio telefonico guardate qua una previsione guardando un video su youtube e a volte io mi non mi capacito come questo nostro canale non abbia ancora sfondato i 20 mila iscritti non mi capacito 16 26 67 247 247 euro regalate qui le foto a capocchia come sempre ma non importa 7 70 eccolo qua mi raccomando quando maurizio vi regala qualche previsione non sprecate a mettere almeno un euro di ambo è perché sennò vincete troppo soprattutto quando si gioca ruota unica allora 7 9 12 21 70 90 milano ergo 7 9 e 70 si porta a casa alterno bravissima 7 70 era lambo mio 16 26 67 andiamo avanti eccola qui roma capitale 14 52 ambetto spaccato servizio telefonico vedete che la nazionale non c'è lo vedete guardate qui 7 70 ambo secco e ambo a tutte 7 70 12 21 ambo in quartina 14 52 ambetto 16 26 67 ambo in terzina ma che volete di più ma cosa volete di più 67 presa in posizione perché avevo detto occhio la quinta 12 26 67 andiamo avanti mi raccomando qui va beh qui ha messo l'oro perciò giocando anche 50 centesimi ha preso un bellissimo ambo in terzina complimenti un euro di ambo mi raccomando 16 50 di ambo e 50 di terno mi raccomando se non poi vinciamo troppo 7 70 ovviamente erano due ruote perciò non potremmo sbilanciarci più di tanto andiamo avanti 7 70 ambo secchissimo questa è una bellissima giocata perché un euro e 50 di ambo con loro con 50 centesimi di terno perché se usciva il terno con loro erano soldoni è una bella vincita ragazzi così si gioca quando giochiamo su ruota unica provate a mettere loro guardate qui 3 euro di ambo adesso io non ho il calcio cosa per calcolare la vincita non so quanto sia ma è una bellissima vincita se vi faccio leggere whatsapp che mi sono arrivati 14 22 52 82 vabbè uno prende un servizio telefonico poi gioca lambetta a quattro numeri ognuno fa quello che vuole bari torino torino ce l'ha messa lui perché magari pensava che usciva su bari 16 26 67 7 70 questi no sono i nostri scontrini in massa in massa 14 52 ma adesso ve le faccio vedere un po e scorro in modo veloce questa la tecnica bellissima che ancora ha pagato 78 e 77 bellissimo ambetto su roma vabbè ma vado veloce perché se no sto qui fino a domani mattina 14 52 ambetto 7 70 due eurino di ambo pensate due euro di ambo una chiamata 3 euro spesa giocata 6 euro quarto colpo 6 12 18 più 3 euro di chiamata 18 21 euro spesi incassati quasi 500 mamma mia questo servizio telefonico 16 67 7 12 21 e 70 4 euro di ambo sopra 3 euro di ambo ottimo provate a metterci loro e provate a metterci loro quando giochiamo su ruota unica roma capitale bella vabbè bella vincita 23 euro su tutte evidentemente aveva giocato su milano venezia e tutte un euro e 50 d'ambetto 7 70 tutti scontrini vostri eh non miei eh vostri e ripeto potrei stare qua fino a domani mattina perché poi questo è stato il più per me questo è il capolavoro 16 26 67 su ruota unica è il capolavoro perché è uscito pure con loro ripeto potrei stare fino a domani mattina ma non mi va di annoiarvi ma questi sono tutti scontrini che trovate sulla mia pagina facebook la trovate belli questo queste giocate a me piace un euro di ambo con loro ha speso due euro ne ha presi 600 600 queste sono le giocate che piacciono a me un euro di ambo giustamente ha aggiunto un euro di oro ha speso due euro se portato a casa 600 eurini bravissimi allora andiamo avanti perché ne ho una marea se cioè guardate qua 4 euro di ambo 4 euro di ambo bellissimo 6 euro di ambo 6 euro di ambo con loro provate un po' quanto ha vinto questa signora con una previsione regalata 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 a tutti bellissimo ripeto potrei stare fino a domani mattina ma vi annoierei questi sono i nostri scontrini giusto per far capire qualcuno no che il nostro servizio telefonico come dice è una truffa ma qui anche noi veniamo non una previsione perché ne avevamo due su youtube ma ovviamente il nostro dovere l'abbiamo fatto perché l'abbiamo fatto ok la previsione era questa non è che c'era tanto da da girarci intorno eccola qui bari 67 16 26 bellissimo bellissimo allora sono altrimenti sto fino a domani mattina è pronto un nuovo ambo vertibile è pronto il nuovo ambo vertibile ma io per voi io ho preparato vi preparo ovviamente roma questa si continua per chi vuole la classica moto a trattore a cingoli che passa da qua allora io non posso abbandonare il mio popolo chi mi segue anche se non riusciamo a sfondare i 20 mila iscritti ma allora io domani mattina vi darò vi preparerò una previsione su ruota unica su ruota unica così possiamo giocarci anche loro e poi domani mattina vi preparerò la previsione di questa tecnica fantastica che di solito mettiamo nel servizio telefonico e questa volta ho deciso di donarla a voi amici di youtube ok perciò domani mattina mi metterò al lavoro l'ho già preparata la previsione ci sarà la previsione su ruota unica i nostri tre numeri su ruota unica così almeno possiamo andare a giocarci loro e dopo vi preparo la previsione quella che tanto fa giudire il servizio telefonico che abbiamo sostituito con l'ambo vertibile ve la donerò a voi ragazzi fate crescere questo canale i risultati arrivano ci sono vi spiego anche un po' di cose domani mattina vedremo il quadro estrazionale assieme fate crescere questo canale sfondiamo i 20.000 iscritti perché mi sembra che ce lo meritiamo e ce lo meritiamo alla grande allora eccolo qua questo è quello che troverete domani leggete l'orario linee attive dalle 9 alle 12.30 perché poi andiamo a mangiare anche noi poi dalle 15 alle 19 cosa trovate domani a parte il 9.90 che dovete continuarlo trovate il nuovo Roma capitale tecnica bellissima che ci sta pagando ogni due o tre colpi e dopo questo ambo vertibile questo ambo vertibile che secondo me è già martedì potrebbe uscire perché è una condizione fortissima più forte del 7.70 il 7.70 vi ricordo che è uscito secco su ruota secco su tutte il 70 è uscito un po' dappertutto ok perciò mi raccomando mi raccomando non perdete e il 9.90 lo dovete continuare domani avete tempo ancora di entrare nel Matos perché questa settimana noi inizieremo a giocare la super previsione della tecnica infallibile tecnica spettacolare che l'abbiamo tolta non la vendiamo più chi l'ha presa l'ha presa pensate 8 anni che paga l'ambo secco ogni mese 8 anni che paga sempre l'ambo secco nel Matos in 3 ma questo è il terzo mese che facciamo di Matos due mesi abbiamo preso l'ambo secchissimo entro due o tre colpi di gioco perciò entrate nel Matos nel mio gruppo abbonati io ho postato le previsioni la tecnica infallibile io ve l'ho donata poi farò un video però non voglio aggiungere troppa carne al fuoco altrimenti poi vi scordate un po' tutto adesso per tutti i nostri clienti che vogliono attivare il servizio telefonico domani mattina potete prendere queste due previsioni per chi si vuole abbonare basta mandarmi un messaggio su Whatsapp vi dico come fare a entrare nei nostri gruppi e per voi di Youtube aspettate domani mattina perché domani mattina alle 9 io sarò qui per voi con un buon caffè per regalarvi la previsione su ruota unica ma soprattutto la super previsione che di solito mettiamo nel servizio telefonico questo mese abbiamo deciso di donarla a voi amici di Youtube ok? ci vediamo domani mattina grazie a tutti per gli scontri dal capitano è tutto un grosso besos ciao grazie a tutti per gli scontri